Presidente della Juventus? Come vedrebbe Del Piero presidente della Juve? Presidente della Juventus? Del Piero potrebbe fare qualsiasi cosa nella Juventus, è stato uno dei più grandi calciatori che la Juventus ha avuto, perciò se alla Juventus decideranno di affidargli qualche ruolo, qualsiasi sia, sarò felice per lui. Un ricordo a distanza di qualche mese di un suo calciatore molto importante, che non c'è più, Luca Vialli. Grande Luca, è stato un giocatore molto importante per me, un personaggio molto forte come calciatore, ma soprattutto come uomo, perciò averlo perso è un dispiacere enorme. Qui a Pontedera oggi si chiude un cerchio, perché lei è stato un ottimo calciatore, ma è stato un fuoriclassico come allenatore, oggi qui viene premiato. Cosa si ricorda di Pontedera e di quell'anno? È stata la mia prima esperienza da professionista, dopo il settore giovanile, la prima esperienza l'ho fatta qua a Pontedera, in C2. Ho capito che potevo fare qualcosa di importante, mi sono trovato molto bene, perciò sono stato felice di aver fatto questa esperienza. grazie. 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 Grazie a tutti.